In vista del turno infrasettimanale, il Ciliberga anticipa il proprio impegno di campionato contro l'Entigione a domani, con calcio d'inizio confermato alle ore 14.30 presso lo stadio Levantini. I gialloblu, reduci dal pareggio Beffa contro la Drenza nel derby, affronteranno l'ultima in classifica, che però, nelle partite finora disputate, non ha mai concesso più di una rete all'avversarie. Una squadra che è ostica, che gioca bene, quindi la classifica probabilmente non dice la verità sul loro potenziale, però sappiamo di andare con le antenne dritte e di non sottovalutare l'impegno, assolutamente, perché non ce lo possiamo permettere, quindi questa è la prima cosa. Per il resto mettiamoci le spalle subito la partita con la Drenza e soprattutto gli ultimi 5 minuti e ripartiamo dal novantesimo di settimana scorsa. La squadra ha svolto un'intensa settimana di allenamenti agli ordini tecnico Carobbio, lavorando con la consueta serenità, ma con ancora più concentrazione e determinazione in vista del delicato impegno di domani. Sì, forse hanno capito quello che si è sbagliato domenica, che si è sbagliato poco, però quello che abbiamo sbagliato c'è costo caro. E' ora che dobbiamo capire che i dettagli e gli episodi fanno una differenza e dobbiamo fare in modo che i dettagli e gli episodi vada dalla nostra parte. Questa settimana abbiamo lavorato su questo dettaglio e speriamo che sia stato recepito per poter fare una grande partita domani, ma sono sicuro che domani faremo una grande partita. Il tecnico perde sola per squalifica, ma recupera tra i 22 convocati Vignali, Lirli e Chinelli. Tre innesti importanti, cofrono all'allenatore un ventaglio di scelte maggiore. Sì, sono recuperi importanti, Vignali sappiamo tutti quanto è importante nell'economia della squadra, è il miglior Vignali. Speriamo che domani ci dia il suo contributo importante perché Vignali al 100% è un giocatore che fa la differenza e può trascinare anche gli altri a qualcosa di importante. Con una vittoria il Ciliverga avrebbe la possibilità di staccare la zona play-out all'interno di un girone che presenta una classifica molto corta dove ogni squadra ha dimostrato di poter dire la sua. Hai ragione, nel senso che siamo all'ottava giornata e a parte il Modena non c'è stato un vero e proprio segnale da parte di qualcuno e la classifica nella dimostrazione. È tanto corta, sia verso l'alto che verso il basso, quindi un passo falso o un passo ben fatto può fare la differenza in questo momento e soprattutto può fare la differenza a continuità di rendimento. Abbiamo visto il fan full, per esempio, ha fatto 5 vittori di fila e si è ritrovato secondo in classifica. Quindi se si riesce a fare un filotto di questo tipo allora va bene, però noi dobbiamo cominciare a ritrovare la vittoria che è la prima cosa e poi dare continuità. Le prestazioni in queste due settimane ci sono state, tolti gli ultimi 5 minuti domenica e quindi noi dobbiamo continuare su questa strada. La prestazione c'è e il risultato arriverà e ne sono convinto. Grazie.